Ciò di cui abbiamo più bisogno è un'Europa ben informata, anche grazie a politici europei che diffondano notizie vere, dichiarazioni documentate e messaggi che allontanino dall'odio. A loro chiederei innanzitutto di non perdere la memoria e il valore della storia e di praticare una politica sinceramente europea. Grazie a tutti.